Gecko's Garage Andiamo, meccanici! Tocca a Fiona l'autopompa oggi! Wow! Sono Weasel, la donna, la proprietario del nuovo Le Ruote di Weasel. Totale automazione per una veloce riparazione. Salve, signor Weasel! Io sono Gecko! Oh! Oh! Ecco il mio primo cliente! Non ce n'è per nessuno! Le Ruote di Weasel è il numero uno! Ci vediamo, rana! Il mio nome è Gecko! Bene, Fiorella! Non ci vorrà molto! Non sono sicuro con quale pulsante si avvii il servizio. Premendoli tutti qualcosa accadrà! Alla prossima, Felicity! È stato davvero veloce! Oh, cielo! Non sembra stare bene! Vieni, Fiona! Diamo un'occhiata! Ah, ecco il problema! Weasel era così preso da fare le cose di fretta che ha messo del sapone nel tuo serbatoio dell'olio! Ecco fatto! Abbiamo risolto il problema! Ora Fiona corre senza più bolle! Sono certo di aver premuto il pulsante giusto! Ops! Ci vediamo presto all'Officina di Gecko! Ciao! Ehi, ciao a tutti! Bentornati all'Officina di Gecko! Oggi è una giornata tranquilla! Stiamo facendo le pulizie di primavera! Che cosa sarà mai questo rumore? Bobby, il bus! Non sembri stare bene! Andiamo! Facciamo subito un controllo! Oh, cielo! Bobby non sta per niente bene! Vediamo se riusciamo a capire cosa non va! Forse il radiatore ha bisogno d'acqua! Svelti! Svelti, meccanici! Svelti! No! Queste non sono stelle! Aspetta un momento! povero bobby ha una perdita d'olio l'olio serve a far girare bene il motore adesso la ripariamo abbiamo trovato il problema niente paura c'è una perdita di olio dalla tubatura verde salderà il danno in pochi istanti con tante scintille molto brillanti e un bel cerottino terra pulita la tua bua bel lavoro blu bel lavoro verde adesso ti senti meglio bobby un altro cliente soddisfatto è tutto per oggi ci vediamo la prossima volta all'officina di gecko ciao ciao a tutti io sono gecko è un giorno davvero speciale oggi è la prima visita di camioncina alla nostra officina quindi ne abbiamo organizzato un extra super speciale benvenuto da gecko ciao camioncina sei un po nervosa va tutto bene sei in buone mani vero meccanici oh no abbiamo fatto spaventare camioncina non preoccuparti mamma camion noi la troveremo presto meccanici dobbiamo trovare camioncina oh povera camioncina dove potrebbe essere ti stai nascondendo camioncina è perché sei nervosa eh sai una cosa anch'io lo sono è la tua prima volta all'officina vogliamo che la tua visita sia super speciale scusa se prima ti abbiamo spaventata ma lo prometto ci prenderemo extra super cura di te che ne dici va bene le porte dell'officina si aprono in velocità è ora di aiutare un veicolo in difficoltà ti auguro una felice giornata camioncina sei stata molto coraggiosa non c'è di che camioncina grazie mille per averci fatto visita oggi all'officina di gecko ciao ciao a tutti oggi siamo indaffarati camioncina e max sono venuti a fare il cambio gomme ma dov'è max? oh ciao max svelti 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 meccanici gialla gialla ha battuto forte la testa quindi tocca a voi blu e rosso per mille bulloni svitati andiamo gialla sembra che abbiate confuso le gomme non fa niente tutti possiamo sbagliare dobbiamo solo cambiare di nuovo le gomme oh non preoccuparti max presto riavrai le tue camioncina sappiamo che ti stai divertendo ma quelle sono di max gliele vogliamo ridare adesso? ah brava camioncina è molto importante restituire sempre le cose prese in prestito ci vediamo presto ciao ciao a tutti io sono gecko noi stiamo andando a casa cosa? quella è camioncina cosa succede camioncina? hai perso il tuo ciuccio? non disperarti lo troviamo noi per te su su meccanici prova a cercare tra quei fiori rossi il ciuccio è lì? non sarà dietro a quella siepe verde riesci a vedere se è lì? eppure deve essere qui intorno mi dispiace camioncina non troviamo il tuo ciuccio da nessuna parte oh blu ben fatto lo hai trovato ecco qui camioncina alla fine è andato tutto bene grazie a tutti voi per l'aiuto ciao eh cosa? Fiona l'autopompa qual è il problema? la tua manichetta non funziona? diamo subito un'occhiata non preoccuparti Fiona ti aggiustiamo in un baleno prendo la mia chiave inglese migliore è un'occhiata oh Oh! Gosa? Hm… Hm… Venite, meccanici! Datemi una mano, forza! Va tutto bene, Gialla? Beh, direi che il problema ora è risolto! Grazie per essere venuta all'ufficina di Gekko, Fiona! Ciao! Ehi, ciao a tutti! Sono Gekko! È una splendida giornata di sole! Così ho pensato di osservare un po' gli uccellini! Oh, guardate! Ci sono i gemelli! Barry e Carrie! Oh, no! Barry ha avuto un incidente! Presto, meccanici! Andiamo ad aiutarlo! Su, su, Tilly Carroattrezzi! Non preoccuparti, Barry! Ti tiriamo subito fuori da lì! Blu! E adesso facciamo subito un controllo! Ma che strano! Il tuo motore non parte! Ah, Carrie è venuta a incoraggiare Barry! Davvero adorabile! Sapevo che c'era qualcosa che non andava! Questo pesciolino deve essersi incastrato nella marmitta di Barry! Ecco perché il motore non partiva! È bello quando c'è il supporto degli amici! Ci può aiutare a guarire molto più in fretta! Il pesciolino è sano e salvo adesso! I suoi amici dovevano essere molto preoccupati! Beh, tutto è bene quel che finisce bene! Ci vediamo presto! Ciao! Ciao a tutti! Bentornati all'oppicina di Gekko! C'è molto fango quest'oggi, quindi stiamo preparando l'autolavaggio! Guardate! Sta arrivando camioncina per essere pulita ben bene! Ehi, ciao camioncina! Lasciami indovinare perché sei venuta! Splish, splash e splosh! Acqua e spazzolone sono in funzione! Così non va bene! Sei ancora tutta sporca! Ma certo! Non l'abbiamo riempito con il sapone! Non si può pulire perfettamente senza sapone! E adesso che il carico di sapone è pronto! Leviamo tutto il fango di torno! Ma che strano! I rulli avrebbero dovuto togliere le bolle di sapone! Ah, sì, ci sono! Camioncina è ancora troppo piccolina per essere raggiunta dai rulli! Oh! Oh! urrà l'autolavaggio ha funzionato e ora camioncina è pulita e splendente saluti a tutti da GECO ciao buon halloween va tutto bene meccanici sono solo io GECO aspettate un momento cos'è questo rumore spaventoso eccolo di nuovo spero che non sia uno spaventoso fantasma di halloween qualunque cosa fosse credo sia andata via cosa è oh no meccanici ho paura che l'officina sia infestata blu ehi un momento blu fa un passo avanti il rumore si sente solo quando tu ti muovi bene niente panico brividi e urla è la ruota di blu che cigola quindi non è nulla uno spruzzo d'olio per togliere il cigolio e possiamo dire fantasma addio la paura è passata ora possiamo andare a fare dolcetto o scherzetto buon halloween a tutti voi ciao